La mia passione mi è scoppiata col crescere dell'età mia, subito ero appassionato di motori e di moto, tanto più che sono stato diffidato dal podestà di allora come pericolo pubblico, perché quando giravo io in moto in Fidenza, che allora si chiamava Borgo Sandonino, la gente scappava via dai marciapiedi, ero un po' scappestrato, erano tutte le robe, quello che si fa a 17-18 anni ecco, si avvicinava la data di andare sotto le armi perché allora c'era il servizio militare obbligatorio e c'avevo un cugino che era in aeronautica ed era in aeronautica all'istituto luce, era uno degli unici operatori luce che di allora, ma cosa vuoi andare a fare il motorista, perché non fai il pilota, ma non so, sono andato alla visita a Firenze, andata alla visita a Firenze è uscito bene, mi hanno assegnato all'aeronautica militare nel 1937, però mi hanno mandato a casa in licenza senza segni in attesa della chiamata, sono venuto a casa e il primo gennaio 1938 devo partire per Pola perché là c'era la zona del reclutamento degli allievi piloti ufficiali e sotto ufficiali insieme, eravamo tanti, eravamo sui 160 persone che eravamo a Santa Caterina di Pola, lì abbiamo fatto tre mesi e lì avevamo sei materie, motori, aerodinamica e tutte queste storie. Quando c'è stata l'assegnazione ai campi di volo, è intervenuto lui, era il generale Ranza che era di Fiorezzuola dovevano resti andare, è un po' vicino a casa e loro mi hanno trasferito a Parma e ci mandavano, io sono stato il primo del mio corso a decollare da solo e mentre facevo i voli da solo anch'io e io andavo sopra a casa mia, un giorno ero lì che facevo le picchiassi a loro, stavo in volo perché era l'aeroplano che mi teneva in volo, non perché ho visto un aeroplano e via, quattro a quattro sono, come ho terrato c'era già il tenente che mi aspettava, lì a Parma era comandato dal famoso colonnello Gattolini che era la peste, come sono sesso mi hanno portato subito dal parrucchiere i capelli a zero e cinque giorni di prigione e non farlo più, solo che dopo quindici giorni ero lì, stavamo aspettando il nostro turno, ho detto che in ufficio c'era il colonnello, a me mi chiama il tenente Canelli e dice fai un quarto d'ora, torna al campo, monta sull'aeroplano, lui è in ufficio e ora sono partito di nuovo a Fidenza, come sono a Fidenza, dopo due minuti c'è già l'aeroplano che mi affianca, era il colonnello Gattolini, di nuovo a terra, era patto a zero ma erano cresciuti tanti così i capelli e mi arriva l'ordine di trasferimento a Pistoia in una scuola di allievi ufficiali, perché lì a Parma eravamo tutti allievi sotto ufficiali e mi ha trasferito là, ho finito il primo periodo lì, in questo primo periodo facevano pilotare un aereo solo, cioè il Caproncino, il Cacento lo chiamavano e fatto il primo periodo che è il brevetto civile quello lì, ci trasferivano alla scuola di secondo periodo, ma mi hanno trasferito a Foggia, lì a Foggia invece c'era la selezione, perché lì eravamo tanti, eravamo italiani, paraguaiani, uruguayani, erano tutti da scuola lì, eravamo una caterma, erano in aeroporto che è il Gino Lisa, lì abbiamo cominciato a fare i primi doppi comandi, c'era da fare delle prove, prima facevano fare il Breda 25, il Breda Asso, se poi andava bene lì facevano fare il Breda 28 a doppio comando, l'istruttore ti insegnava l'acrobazia, poi fatto tutti questi passaggi, a un bel momento lui scendeva, legava le cinghie, vai su e fai vedere cosa sai fare, se uno faceva l'acrobazia, bene o male, andava alla caccia, se uno non la faceva andava al bombardamento, se uno la faceva male andava all'assalto e io sono stato mandato alla caccia, ecco qui che allora da quel reparto lì sono passato a un altro reparto ma sempre sul Gino Lisa, finito quello mi ha mandato passato alla scuola di specializzazione a Castiglione del Lago, era uno dei più belli aeroporti che c'era, lì trovavamo il CR 30 che era doppio comando e il CR 32 monocomando, quello era la scuola di specializzazione caccia, passavano tutti di lì, io nel mio periodo quando sono arrivato io c'erano ancora diversi e svariati piloti del corso prima del mio, il corso del 36-37 e lì alla mattina faceva la solita storia del mago, se andava in linea di volo aspettare il nostro turno, quindi poi lì c'erano tre o quattro istruttori, una mattina a uno, una mattina all'altro portavano su a fare acrobazia col CR 30, era una bella macchina allora, era più bello il 32 perché era monoposto, era più opposto, una mattina vengo chiamato dal colonello Cantini, si dà i corini che facciano un doppio comando, mentre sto per salire sull'aeroplano, aspetta, aspetta un momento, dice farai il volo dopo, adesso faccio quello la, chiede il corso prima del tuo, ha più diritto lui di andare via, era un certo allievo sergente di Cremona, Zarotti e son partiti e facevano acrobazia sopra il campo, a un bel momento col CR 30 anche gli istruttori dovevano stare attenti perché quando è rovesciato se uno lo tiene sostenuto un po' troppo c'è dei ritorni di fiamma e così è successo, l'antenuto rovesciato si è incendiato, allora l'istruttore che è davanti e l'allievo di dietro quando ha visto le fiamme si è girato indietro, lanciati, lanciati, il ragazzo ha preso paura o è stato l'acrobazia, ci aveva le cinghie in polenze e dopo un attimo si gira ancora, il maresciallo vede il posto vuoto, pensando che si fosse lanciato, ha rovesciato l'aeroplano e si è lanciato anche lui, l'aeroplano precipitava, un bel momento ha alzato il muso, si capisce che Zarotti si è ripreso e ha tirato la cloche, ma era talmente basso che si è andato a infilare la palazzina dell'ufficio comando, è andato da una parte fuori dall'altra, io me lo ricordo questo fatto perché dovevo essere io al suo posto, ero un ragazzo di Cremona, sono stato io uno degli accompagnatori del feretro a Cremona quando è morto, è una cosa che mi ha un po' impressionato. Grazie